Buonasera, buonasera a voi. Allora io credo che sia ufficialmente partita la campagna elettorale. E partita, lo si avverte, non solo nel movimento, nei movimenti dei partiti che in questo momento siedono in Parlamento, ma anche al di fuori del Parlamento. Giusto ieri sera io vi ho parlato delle varie trasmissioni alle quali ho avuto modo di assistere. Giusto ieri sera in due trasmissioni diverse, due soggetti che noi conosciamo molto bene, uno è Mariano Amici e l'altro è l'avvocato Eric Grimaldi, hanno parlato di un nuovo soggetto politico che sta per nascere, è entrato un po' più nei dettagli Eric Grimaldi perché si tratta un movimento appoggiato dai medici per le terapie domiciliari, mentre è stato un po' più vago Mariano Amici. Per carità, ognuno può avere la propria idea, è lecito candidarsi, non c'è niente di male, diverso è il ragionamento che noi possiamo fare quanto sia opportuno, quanto sia logico, visto il momento che viviamo in Italia, che non essendo in una piena democrazia, per non usare termini troppo altisonanti, è evidente che è difficile che ci possa essere spazio per soggetti politici che tendono ad abbattere questo sistema, è evidente, se voi entrate in una famiglia, in un circolo e volete cambiare le cose e tutti questi al 90% sono d'accordo, voi capite che diventa praticamente impossibile e che allora bisogna studiare delle altre strategie. O si pensa di avere delle grandi potenzialità, allora è diverso, perché avendo i numeri, come sempre succede in democrazia, si conta di più e possiamo dire la nostra. Se però, come nel caso citato, faccio fatica a pensare che l'avvocato Eric Grimaldi e che Mariano amici possono arrivare ad avere percentuali importanti, percentuali che permette loro eventualmente di contare, allora è chiaro che resto un po' più scettico e sono un po' più perplesso. È chiaro che una strada bisognerà intraprenderla ed è evidente, più ci sarà meno frazionamento fra di noi e più riusciremo a contare. Se per assurdo tutti quanti, questo chiaramente è un'utopia, lo so perfettamente, se tutti quanti che fanno parte di questo movimento o quelli no vax o quelli no green pass o quelli che sono semplicemente contro questa dittatura ancora per altri motivi, ma che in buona sostanza vogliono ostacolare questo sistema, vogliono fare un argine a questo sistema, ecco è evidente che più saremo, più ci metteremo d'accordo numericamente e più riusciremo ad avere un partito importante che potrà contare. È evidente, come stavo dicendo, che questo è molto molto difficile. Per una volta tanto sarò molto curioso di ascoltare le vostre opinioni, cosa fareste, no? Vi dico alcune mie idee le ho già espresse nel recente passato, però in questa circostanza sono curioso di ascoltare voi cosa ne pensate. L'unica cosa che vi posso dire, che io mi sbilancio, io credo che l'unica cosa sbagliata è quella di non sfruttare il fatto eventualmente di poter andare a votare, perché in questo caso è chiaro che si fa il gioco del sistema, si fa il gioco in particolare della sinistra, si fa il gioco in particolare dei globalisti. Quindi ripeto, interessante capire come si evolveranno le cose e per me anche interessante sul nostro canale leggere le vostre posizioni. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.